L'approvazione in Consiglio Comunale dell'aumento della Tari continua a tenere banche o a provocare proteste nelle territori pesarese. Sabato mattina alcuni esponenti della lista civica Vinioltre hanno anche loro voluto manifestare il disaccordo in merito a questo aumento della tassa dei rifiuti. Non siamo d'accordo perché Pesaro è una delle città con la Tari più alta di tutte le marche, perché è assolutamente falso che non si possano contenere i costi, infatti la vicina Fano ha utilizzato le entrate prese dalle evasioni per abbassare i costi in bolletta, cosa che a Pesaro non viene assolutamente fatta. Il fatto è che le persone purtroppo stanno subendo pressioni da tutte le parti, io stessa per aver detto che il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente all'unanimità, ho subito delle minacce telefoniche tramite messaggi, quindi la gente oggi ha anche paura di parlare. La dimostrazione è data da un Consiglio Comunale che purtroppo ormai comanda da oltre 75 anni, 10 l'ultimo Consiglio Comunale, io ho detto a più riprese che abbiamo scoperto anche delle vicende su appalti loschi di consiglieri comunali che con le loro attività, con le loro aziende si sono affidati direttamente l'incarico di appalti in violazione di tutte le norme, ma queste notizie vengono messe a tacere da tutti. Secondo il candidato sindaco Pio Perrizzi esisterebbero però alcuni semplici modi per ridurre e contenere l'aumento della Tari. Uno, utilizzare tutte le evasioni, quindi tutti gli incassi dalle evasioni. Due, utilizzare quella parte di utile che viene distribuito da Marche Multiservizi al Comune di Pesaro per la proprietà della sua quota che è pari quasi al 26%, per aiutare le famiglie, per aiutare e contenere i costi in bolletta. È semplice, basta fare meno cassa e più amministrazione della città.